Chiuso il primo tempo a rete inviolate, l'ottavo della ripese, il gol partenopeo. Maradona resiste la carica di Bencina e poi crossa con precisione per lo smarcatissimo Bertoni che di testa non ha difficoltà a mettere in rete. Cinque minuti dopo dal fiume atterra Joary. Per l'arbitro non è rigore, ma sulla punizione dal limite Bonomi con un preciso tiro sorprende di Fusco. Uno a uno.